La riapertura delle scuole in Calabria continua a dividere, tra favorevoli e contrari le opinioni sono molto contrastanti. C'è chi al nostro microfono afferma che è stata prematura, chi invece la ritiene più che giusta per offrire ai giovani un percorso di crescita e di formazione che la DAD non può senz'altro garantire. Insomma, tra didattica in presenza a distanza e il problema trasporti, il rientro a scuola in Calabria senza dubbio in chiaroscuro. Guardi, per quanto riguarda a livello nazionale, credo che l'idea è giusta quella di riaprire perché si deve cominciare a dare una normalità alla situazione, anche se sto notando che gli assemblamenti sono lo stesso, ma credo che questa sia stata causata dall'ordinanza che ha fatto il nostro governatore della Regione Calabria, che lasciando nelle mani delle famiglie una situazione, il risultato è questo qua. Come si può vedere? Assemblamenti, chi va a scuola, chi non va a scuola, quindi il caos totale. Lei non avrebbe aperto? Io no, io avrei aperto, avrei aperto facendo con i presidi, discutendo perché c'è stato tempo, è da settembre che c'è stata situazione, discutendo con i presidi una riapertura fatta come si deve, con entrate separate e la didattica al 50% mi sta anche bene, però i ragazzi devono tornare a scuola. Beh, diciamo che ci sono in merito dei pareri contrastanti. Io personalmente sono favorevole perché ritengo che sia giusto vivere un minimo di normalità, nel limite del possibile. Ovviamente la scuola, gli istituti in generale cercano di garantire, di assicurare un po' di controllo e di sicurezza. È ovvio che il rischio si corre sempre, come si corre insomma dappertutto. Comunque penso che sia importante. La DAD è una valida alternativa, ma non è la soluzione. È una didattica di emergenza, così doveva essere, ecco. Perché sicuramente lavorare in presenza ha dei vantaggi che la DAD sicuramente non può offrire. Io penso che bisognerebbe aprirle ordinatamente con i mezzi di trasporto perché fare una cosa ibrida, un pochino, ma anche l'insegnante io credo che non ce l'hanno. Disorientati, disorientati. Penso di sì. Penso di sì.